Musica Oggi a Roma viene presentata la nuova flotta di tricicli elettrici di poste italiane ecco come questa novità cambia il lavoro dei portalettere Oggi presentiamo 55 nuovi mezzi sulla città di Roma sono mezzi a tre ruote, sono mezzi integralmente elettrici quindi verso un impatto ecosostenibile della mobilità sono mezzi che hanno una capacità di carico triplicata rispetto a un normale motorino infatti possiamo caricare fino a 55 kg, 15 sul vano anteriore e 40 nel baule posteriore Sono mezzi decisamente più sicuri, molto più sicuri per i nostri portalettere perché ovviamente le tre ruote garantiscono una maggiore stabilità al conducente a fronte di un tempo di ricarica di circa 6 ore e mezza hanno un'autonomia di un percorso di più di 50 km all'interno di un'area urbana quindi un percorso che permette ai nostri portalettere di effettuare il proprio lavoro in modo ottimale Viaggiare con un tre ruote dà più stabilità stabilità conseguentemente porta a più sicurezza e quindi una diminuzione degli infortuni Allora con l'implementazione dei nuovi mezzi su tutto il territorio di Roma abbiamo organizzato delle aule di formazione e dei piazzali e insegniamo ai portalettere come caricare il mezzo e i comandi poi li mettiamo su un piazzale e li facciamo circolare per prendere confidenza col mezzo da quel momento sono idoni per l'utilizzo Poi ovviamente anche l'aumentata capacità di trasporto è un grosso vantaggio perché si è triplicata rispetto ai mezzi classici, agli scooter classici Con l'ambito di questi siti e-commerce la gente compra sempre più tramite internet e quindi arrivano pacchi voluminosi, il prodotto è più voluminoso rispetto a prima Ci sono anche le classiche lettere però ovviamente arrivano anche pacchi abbastanza voluminosi e con questa capacità di carico adesso è più facile trasportarli Ecco un'altra novità che coinvolge la capitale è il servizio Join Delivery In che cosa consiste? Si articola su due reti distributive Due reti che sono distinte tra di loro ma assolutamente integrate Una rete che noi chiamiamo rete di base lavora quotidianamente e consegna quotidianamente la posta tradizionale Una seconda rete che noi chiamiamo rete business Recapita prevalentemente i prodotti derivanti dal mercato dell'e-commerce La rete business lavora anche nel weekend quindi su sei giorni lavorativi e consegna i pacchi fino alle 19.45 Grazie Grazie Grazie